Ciao, sono Davide Pannozzo e benvenuto nel mio nuovo corso. In questo corso imparerai le scale che servono per suonare sul Modern Blues. Parleremo delle scale pentatoniche, dei suoi modi, come mixare la scala maggiore pentatonica con la pentatonica minore, come utilizzare la pentatonica ad-six e come utilizzare la Dominant Seven pentatonica. Parleremo anche dei modi della scala maggiore, i modi della melodica minore, la scala minore armonica, la scala diminuita e la whole tone. Per ogni capitolo troverai una descrizione scritta di ogni scala, dei fraseggi scritti apposta per te su ogni scala che ti presenterò, una backing track per suonarci sopra e un video di improvvisazione su cui ti mostrerò come muoversi su quella scala. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!